Eccoli qua, ve li presento sono Giannino Danieli e Massimo Satolli. Adesso parleremo con loro di un libro, di un libro che è stato scritto proprio manualmente diciamo da Giannino Danieli ma che ha avuto una collaborazione attiva, fattiva, convinta con il suo amico Massimo, Massimo Satolli. Bene, allora intanto cominciamo a dire il titolo di questo libro che entriamo un po' alla volta nel merito della situazione. Allora ali spezzate, ali spezzate. Noi qui abbiamo sul nostro tavolino due ali, questo modellino di aereo che abbiamo sul tavolo. Allora questo modellino naturalmente ci dà l'idea di quali ali stiamo parlando, vero Giannino? Volevi proprio parlare di ali spezzate che però rappresentano non solo questa immagine ma rappresentano anche due vite, due personaggi ai quali tu hai dato amore, passione, tempo, energie e qualche disagio anche, vero? Sì, era importante prima di tutto rispolverare queste due figure qua che erano cadute completamente nel dimenticatoio proprio nella città che li aveva accolti, parlo di Valdagno ovviamente, nel 1927 è precisamente quando in seguito ad un concorso il papà dei fratelli neri Anselmo vinse questo concorso e diventò il terzo maestro nella storia della scuola di musica Vittorio Emanuele Marzotto nel 1927 in pratica arrivarono con la famiglia, con la mamma sai dei schiavi, papà Anselmo a Valdagno tutti i due i fratelli, Ariosto aveva 21 anni e il fratello minore ne aveva 5 di meno quindi 16 Sì, erano due ragazzi, diciamo, giovani uomini, ecco tu quindi parlerai e hai parlato in questa tua fatica perché è stata proprio un'opera bella, massiccia, tosta hai parlato di questi due fratelli Allora, io ho fatto una piccola raccolta di immagini, partiamo con quelle? Partiamo, partiamo Partiamo con quelle, allora capiremo da lì dopo come organizzare il discorso perché è molto esteso e non dobbiamo perdere dei punti importanti Allora, Alberto, abbiamo Ali Spezzate che è il piccolo video, una serie di immagini che ho preparato Allora, io ho fatto una piccola raccolta di immagini che ho preparato